Dopo più di quattro anni di mobilità e cassa integrazione, si riapre la possibilità di lavorare per gli ex dipendenti delle ditte chiuse nel polo elettronico aquilano. Ingegneri, tecnici, operai, una squadra pronta a rimettersi in pista. Con la Corfenix, la ditta che si occuperà di riciclare i rifiuti di elettronica di consumo come TV e computer, ora la possibilità che almeno 130 unità lavorative siano rimpiegate sembra una realtà. La catena di lavorazione della ditta prevederebbe il recupero di materie prime come vetro, rame, acciaio e ferro, materiali facilmente rivendibili su un mercato che ne richiede sempre grandi quantità. Una linea di lavorazione tutta meccanica, senza forni né sostanze chimiche. Il cuore dell'azienda sarà il mulino di macina dei materiali. Un'azienda che nell'idea progettuale, quella della Corfenix, dovrebbe ridare occupazione da subito a 130 lavoratori per un investimento di 48 milioni di euro. Non si conoscono ancora di preciso i tempi di apertura, per ora si sa che l'iniziativa è avviata e questo fa comunque ben sperare i tanti lavoratori in attesa di ricollocazione. Grazie 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 Grazie